E' arrivata finalmente l'intelligenza artificiale anche su WhatsApp. Da poche ore ragazzi è possibile parlare su WhatsApp con un'intelligenza artificiale, più per la precisione con Copilot di Microsoft. Questa IA è davvero potentissima, le sue possibilità di utilizzo sono davvero sconfinate, ma per farvi qualche semplice esempio possiamo utilizzarla per generare delle immagini partendo dal semplice testo, è in grado di leggere le immagini che noi le inviamo ed è anche in grado di risolvere dei problemi, sia scritti sia tramite immagine. Ragazzi, una IA come questa sarebbe stata davvero tanta roba ai tempi della scuola, magari averla avuta prima. La particolarità però è che questa IA funziona tramite una chat, una normalissima chat di testo su WhatsApp. Come fare per utilizzarla ragazzi? Beh, come per aggiungere un amico. Vi basterà infatti aggiungere questo contatto alla vostra lista dei contatti su WhatsApp e iniziare subito a chattare. Vi lascio il link per accedere a questa chat direttamente nel mio canale Telegram TechBestDeals che trovate qui sotto. Entrateci e cercate WhatsApp IA. Un piccolo suggerimento però in quanto questa IA inizialmente mi parlerà in inglese. Quello che dovete fare è chiederle se è in grado di parlare in italiano. Vi darà una risposta affermativa e da lì in avanti parlerà sempre in italiano. Mamma mia ragazzi, a che livelli stiamo arrivando? Comunque, voi cosa ne pensate? Conoscevate già questa intelligenza artificiale? Ora che è approdata su WhatsApp la utilizzerete oppure no? Se sì, per quale scopo? Parliamone insieme qui sotto nei commenti, amici. Condividete questa notizia a tutti i vostri amici e se questo video è stato utile potete supportare il mio lavoro lasciandomi un like, iscrivendovi al canale e basta, guardando il mio prossimo video che arriverà nei prossimi giorni. Questo è tutto ragazzi, spero di avervi dato una notizia gradita. Vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addictist to Tech. Ciao amici miei! Ciao amici miei!